Entro il 20 agosto, regioni e province autonome dovranno fornire dati univoci che tengano conto del reale andamento della campagna vaccinale nella scuola. È quanto scrive il commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, in una lettera inviata alle regioni con l'obiettivo di dare un ulteriore segnale di attenzione al mondo della scuola, la cui ripartenza è un obiettivo prioritario del governo. Alle regioni il generale chiede di chiarire, per quanto riguarda la platea, la tipologia di personale in servizio, che è stato considerato scolastico, dirigente, docente, ata, amministrativo, ecc. Per le somministrazioni, invece, ha chiesto di escludere dal conto il personale non in servizio e di chiarire il dato di coloro che si sono vaccinati, ma non sono stati registrati come appartenenti alla categoria.